Sono arrivato da poco, ma già l'anno scorso ho seguito tanto, conosco la storia della Sampdoria, sono cresciuto in Italia, so dell'importanza della piazza e della squadra e sono rimasto sorpreso nella prima partita di Coppa Italia dai tifosi. Mi sa che guardo più loro che la partita, ma sono molto contento di essere qua e non vedo l'ora di iniziare in campo. Per me è un esempio, io da lui ho solo da imparare, l'ho sentito prima di venire, mi ha dato qualche consiglio, è molto bravo sia come portiere che come persona. Ho guardato tanti suoi video, sono cresciuto quasi guardandolo, quindi ho imparato tanto da lui e io cercherò di dimostrare quello che ha fatto lui dando sempre il massimo, onorando la maglia e niente, so che lui è una leggenda diciamo qua, ma cercherò di farlo rimpiangere il meno possibile. Per me l'Olanda è stata un'esperienza giusta per me perché ti fanno crescere lì, è un calcio moderno, danno spazio ai giovani che qua in Italia trovi difficoltà essendo giovani. Siamo cresciuti, ho fatto la Serie B il primo anno e poi siamo entrati in Serie A nelle divise e ci siamo salvati ed è stata un'emozione che mi porterò sempre dietro. La Samp troverà un portiere che darà sempre il 101% ogni partita, che si elenerà e darà sempre il massimo per la maglia e per la squadra e cercherò di imparare tutto quello che posso e di dare sicurezza alla squadra che è la cosa più importante e di vincere. Il mister innanzitutto è una grandissima persona e lo ringrazio per le parole. Sì, il primo giorno che sono arrivato abbiamo fatto una riunione, mi ha fatto vedere un po' qual è il suo stile di gioco e cosa cerca dal portiere e io cercherò di accontentarlo nel miglior modo possibile. Serbia e Sampdoria da tanti anni che va avanti e sono contento di essere qua, di essere serbo e di dare continuità ai serbi che sono la Samp, ne sono passati tanti ma uno che mi è rimasto dentro è Sinisa che lo porterò sempre dietro. I tifosi non sono rimasto sorpreso dalla quantità che c'era lo stadio il 14 agosto perché già l'anno scorso ho visto che ogni trasferta erano presenti e si sentivano solo loro, quindi mi aspettavo tanti e sono davvero contento che ci sono, che per gli abbonati è tutto e non vedo l'ora di vivere con loro le partite e si porta bene di avere gioia insieme. Io ragiono sempre partita dopo partita, non mi piace parlare in grande, io penso alla partita adesso con la Ternana e poi la successiva, la successiva è di fare sempre il meglio e dare tutto quello che possono per aiutare la squadra e a vincere. A presto! 個 causesa si entra Santa Marta comincire a palmiare in grande, cornerspondendo ragazzi